Vai! Questa è una grande noccia di Salerno. Se vedete alle mie spalle c'è un corpo d'occhio incredibile. La piazza di Grimita, la piazza della libertà e l'orgoglio di Salerno. La piazza fortemente evoluta dal Presidente De Luca e che questa sera celebra il suo primo concerto. Un grande successo. Il Poo, che è un avvento di grande successo, ha vietato questa serata e tutto si smontra nella più totale tranquillità, ordine e serenità. La gente sorridente produce un buon inizio d'anno. Speriamo che il 2024 ci faccia dimenticare gli orgogli presenti. E dobbiamo lavorare tutti per un futuro di pace e di solidarietà. Viva Salerno, viva i Poo, viva Piazza della Libertà. Viva Salerno, viva i Poo.